Dopo tante indiscrezioni, l'annuncio ufficiale, l'incremento dell'imposta sui consumi dall'8 al 10% in Giappone, slitta di due anni e mezzo. Lo ha detto il premier Shinzo Abe. Avrebbe dovuto entrare in vigore dopo un primo rinvio ad aprile 2017. Le condizioni attuali fanno temere un impatto troppo gravoso sulla debole economia nipponica, ma alcuni economisti temono che la scelta del primo ministro conduca verso un downgrade del paese, visto che l'aumento dell'IVA sarebbe servito a porre un freno all'enorme debito pubblico giapponese. Abe conferma comunque l'obiettivo di annullare il deficit primario nel 2020.